domani 31 gennaio alle ore 18 nell'aula consigliare il primo question time della storia della città di agropoli ad oggi solo la consigliera di minoranza gisella botticchio ha reso pubbliche le interrogazioni con la riserva del presidente del consiglio massimo la porta di accettarle o meno visto che i tempi di protocollo non corrispondono ai quattro giorni precedenti la seduta richiamati dal regolamento ma entriamo nel dettaglio del regolamento del question time le interrogazioni e interpellanze possono essere presentate da consiglieri comunali e associazioni regolarmente censite sul territorio e cittadini per il tramite di un consigliere comunale regolarmente identificati vengono presentate per iscritto all'ufficio di presidenza del consiglio entro le ore 10 del quarto giorno lavorativo che precede la seduta l'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al sindaco e alla giunta per sapere se un fatto sia vero se qualche informazione sia pervenuta o sia esatta se sia stata presa o si intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o comunque per ottenere informazioni sull'attività dell'amministrazione comunale il presentatore avrà 5 minuti di tempo per esporre e illustrare l'interrogazione o interpellanza l'interrogato avrà non più di 10 minuti per la risposta l'interrogante avrà al massimo altri 5 minuti per la replica ogni seduta deve durare al massimo due ore e pertanto nel caso di superamento di tale fascia oraria il presidente del consiglio comunale ha facoltà di rinviare alla prossima seduta le interrogazioni eventualmente non discusse nella seduta medesima ad ogni consigliere è concessa la facoltà di presentare due interrogazioni e due interpellanze a seduta le interrogazioni o interpellanze saranno discusse in ordine alternato tra quelle presentate dalla maggioranza e quelle presentate dalla minoranza alle sedute del question time partecipano il sindaco o un suo delegato assessore o consigliere il presidente del consiglio che ne è responsabile garante il segretario comunale e o un funzionario comunale per la regolarità delle sedute non è previsto alcun numero legale ma è necessaria la presenza degli interroganti interpellanti o loro delegati i quali dovranno attenersi strettamente a queste norme regolamentari le sedute sono pubbliche si terranno nella casa comunale saranno video registrate le sedute di question time si terranno l'ultimo giovedì del mese se festivo posticipato al primo giorno utile lavorativo alle ore 18 rotto Grazie a tutti.